Section 8.2. I progetti. Michele è al lavoro. Dopo cinque ore vuole fare una pausa pranzo. Telefona alla collega Maria. Pronto? Ciao Maria, sono io, Michele. Viamo a pranzo insieme. Scusami, ma un sacco di cose da fare. Veramente non posso. Va bene, vado da solo. A dopo. Michele prende la giacca ed esce dall'ufficio. Nel corridoio incontra il suo collega Luca. Ciao Luca, sei tornato da Milano, ti piace? Ciao. Milano? Milano è splendida, bellissima, affascinante. E le ragazze milanesi? Luca sorride. Allora, Maria ti ha detto della mia fidanzata Elisa? Elisa è giornalista. È bella, intelligente, divertente. Sono innamorato Cotto, è vero. Avete fatto i progetti per il futuro? Certo. Elisa è venuta da me a Roma. Viviamo insieme da due mesi. Dovremo comprare appartamento più grande, però il problema è che lei al momento non lavora. Non ti preoccupare. Troverà qualcosa sicuramente. Speriamo bene. Un'altra notizia. Ci sposeremo in ottobre. Complimenti. Voi due non perdete tempo. Grazie. Faremo una festa di nozze il 23. Devi venire. Ti manderò l'invito. Ci verrà anche Maria. Caro Luca, ci sarò senz'altro. Nice ending for Luca, isn't it? Va bene, impariamo le parole. Cominciamo dal titolo. Il progetto is plan, project, intention. Fare progetti, to make plans. La pausa is break. Fare una pausa, to take a break. La pausa, pranzo, is lunch break. Insieme is together. Together with Maria would be insieme a Maria or insieme con Maria. Fa lo stesso. It's the same. Scusami, I'm sorry, or excuse me. Il sacco is sack or bag. It also means great deal, lot bunch. Un sacco di bugie, a bunch of lies. Da solo is alone. La giacca is jacket. Il corridoio is corridor, hall. Affascinante, fascinating, attractive, charming. Milanese is milanese, from Milan. Il giornalista is journalist, but male journalist. Female journalist would be, well, la giornalista. Divertente, amusing, funny. Essere innamorato, to be in love. Essere innamorato cotto, to be madly in love. Cotto is participio passato di cuocere, which means to cook. Quindi cotto is cooked or well done. Sono innamorato di te. I'm in love with you. Il futuro, future. L'appartamento is flat, or apartment. Più grande is bigger. Non ti preoccupare. Don't worry. If you want to be polite and use forma di cortesia, you'll say Non si preoccupi. Non si preoccupi, signora Lombardi. Tutto sarà bene. And speriamo bene. An expression meaning, let's hope for the best. La notizia, news. Buona notizia, good news. Complimenti, congratulations. Il complimento is compliment. La festa di nozze, wedding party. L'invito, invitation. And in the end, senz'altro, certainly, definitely, of course, without doubt. That's it, ragazzi. Grazie di tutto. E ci sentiamo fra poco.